Figlio di Livio Claudiano, appartenente alla nobile e antichissima famiglia Claudia, che sin dai tempi di Romolo aveva dato alla patria consoli, magistrati, generali e statisti. Livia Drusilla era Claudia due volte. Per nascita padre e marito erano ferventi repubblicani, Claudiano, partigiano di Brutto, si era dato la morte dopo Filippi, e Tiberio, dopo aver partecipato alla guerra di Perugia contro Ottaviano, era stato proscritto da questi. Nel giorno in cui la figlia Giulia nasce da Scribonia, Ottaviano ripudia la moglie e chiede la mano di Livia a Tiberio Claudio, comportandosi quasi come se stesse trattando con il padre anziché con il marito. Tiberio concede il divorzio e Ottaviano chiede al collegio dei pontefici di sposarla immediatamente, era il 17 gennaio del 38. Successivamente, Livia dà alla luce Druso, il suo secondo figlio. Ottaviano lo riconosce come cittadino romano, ma lo restituisce al suo legittimo padre. Nonostante desideri avere figli propri, Livia non riesce a concepire dopo un aborto molto sofferto. Ottaviano si affida completamente a Livia, consultandosi costantemente con lei e arrivando persino a darle il sigillo personale perché firmi in suo nome, oltre a mettere a disposizione e 500 servi per soddisfare le sue esigenze personali. Ha già organizzato due matrimoni vantaggiosi per Tiberio e Druso, il primo con Vipsania, figlia di Agrippa, amico e generale di Augusto, il secondo con la nobile Antonia, figlia di Ottavia e di Marco Antonio. Infatti, Ottaviano decide di dare il colpo finale a Marco Antonio, che viveva al fianco di Cleopatra dopo il divorzio da Ottavia, progettando di fondare un grande regno ereditario in Oriente. Non avendo discendenti maschi, Augusto decide di adottare Marcello, primogenito di Ottavia, e di dargli in sposa la quattordicenne Giulia. Augusto propone quindi ad Agrippa, suo fidato generale, di divorziare dalla moglie per sposare la vedova Giulia. Agrippa, che era molto più anziano di Giulia, accetta e da questa unione nascono Gaio e Lucio Cesare, adottati dall'imperatore, e successivamente Agrippina e Giulilla. Ci sembrerebbe che non ci sia speranza per la discendenza di Livia, soprattutto dopo la morte di Druso in Germania, dove stava conducendo una campagna per fortificare i confini dell'impero, tre anni dopo la morte di Tiberio. Infatti, nessun'altra imperatrice fu mai tanto amata dal popolo e dall'imperatore come lei. L'imperatrice Livia, consigliera di Augusto, fu adorata dal popolo in vita e divinizzata dopo la morte, proprio come Augusto. Livia e Ottaviano conducevano una vita semplice nella loro casa sul Palatino, senza i lussi che avrebbero contraddistinto i successivi imperatori. Livia non si concedeva gioielli o abiti costosi, ma si occupava personalmente delle faccende domestiche e del benessere del marito, arrivando persino a cucirgli i vestiti e a preparargli spesso da mangiare. Nel 22, Livia si ammalò e suo figlio la raggiunse da Capri per starle vicino. Tuttavia, quando si ammalò nuovamente nel 29, Tiberio rimase a Capri, indicando che il loro rapporto era ormai naufragato e il cadavere di Livia fu sepolto con un notevole ritardo, solo quando il suo stato di decomposizione rese necessario agire, in attesa dell'arrivo di Tiberio. Per evitare di soddisfare i desideri della madre, Tiberio scelse di non divinizzare Livia, a differenza di quanto era accaduto per Augusto. In modo strano, Tiberio rispettava Augusto nonostante non fosse il suo vero padre, ma non provava lo stesso rispetto nei confronti di Livia, la sua vera madre. Addirittura, posse il suo veto su tutti i titoli che il Senato voleva conferirle dopo la sua morte e arrivò persino ad annullare il testamento di Livia. Nel Tempio di Augusto, le fu eretta una statua e furono organizzate corse di carri in suo onore.